Nuove disinfestazioni in provincia di Padova a seguito di nuovi casi di West Nile rilevati. I contagi da inizio luglio sono saliti nelle scorse ore a 162 e di questi 72 sono state forme neuroinvasive e 64 febbrili. Nelle parti di terapia intensiva dell'azienda ospedaliere degli ospedali dell'USL6 sono attualmente ricoverati una trentina di pazienti. Gli ultimi casi sono stati registrati tra i cittadini residenti a Selvazzano, dentro nelle zone vicino a Via Verdi, Via Vegri, Via Timavo e Via Trento, dove verranno fatte nelle prossime ore degli interventi di disinfestazione e contrattamenti larvicidi per la rimozione dei focolai larvali presenti in un'area privata. Già effettuata invece una disinfestazione notturna con prodotti adulticidi. Intanto all'Ozzo a Testino c'è stato un caso di dengue, il secondo in questa estate nel Padovano. Un uomo che rientrava da Cuba ha accusato sintomi come febbre e dolore alle ossa. Attorno alla casa dove vive la famiglia, il giovane rientrato dall'isola Caraibica, è iniziata così la disinfestazione perché se la persona è infettata con la dengue e viene punta da una zanzara tigre, l'insetto a sua volta diventa vettore del virus. Fortunatamente nessuno della famiglia del giovane al momento è stato contagiato.